Scendono i contagi e diminuisce la pressione del covid sulla sanità pubblica. Stiamo vivendo una fase dell'emergenza che potrebbe portare a risultati molto importanti nell'immediato futuro. Lo conferma anche l'assessore regionale alla sanità, Manuela Lanzarin. Diciamo che è una situazione tutto sommato buona, nel senso che stiamo diminuendo con i casi positivi, quindi l'occupazione ospedaliera sta calando e questo è un dato molto molto importante. Sono in molti a chiedersi cosa ci si possa aspettare nelle prossime settimane. Ci aspettano delle settimane, io credo, in cui questo dato si stabilizzerà e la discesa effettivamente potrebbe iniziare. Questo dovuto al fatto che la variante ha circolato molto, quindi le persone che si sono contagiate sono stati un numero molto importante, ma probabilmente questa famosa curva è nella fase di discesa. La famosa luce in fondo al tunnel si fa sempre più viva e con essa la speranza di uscire definitivamente da questa emergenza. Io credo non nell'immediato, però un po' più a lungo, anche con la bella stagione. Abbiamo già visto che sono state allentate molto le misure, pensiamo solo oggi ai protocolli per la scuola, quindi che si rimani in classe fino ai quattro casi e poi la DAD scatta solo dai cinque casi in su, insomma, quindi vuol dire che la pressione è una pressione che sta calando e io mi auguro che, come dicono la parte medica, clinica, scientifica, effettivamente la primavera sia un'altra primavera e la pandemia, l'emergenza sia un ricordo. Ricordiamo che lo stato di emergenza dura fino al 31 marzo e io credo che con il 31 marzo dovrebbe finire.